Io ho conosciuto Tupac, scatto a casa mia E Tupac ha fatto la musica dal vivo per una mia ispirata a mio Gesù Assurdo Casa tua Sì Muschio selvaggio Podcast musico Luis Federico Martì Muschio, microfono, videocamere, luci Ospiti diversi, senti nuovi amici 20 minuti, un'ora di argomenti Isla, imprendibilità, shopping, arrepotenza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti Siamo negli anni venti Muschio selvaggio Figuro massaggio Ragazzi, oggi a Muschio selvaggio Un... una ospite... La donna italiana Una delle donne italiane Se non la donna italiana Più conosciuta Al mondo Sapete che il metro di paragone in questo podcast è Justin Bieber Lo dico sempre Cioè, qui non è che Justin Bieber è amico suo Probabilmente Justin Bieber si vanta di avere come amica Donatella Versace Grazie, ciao Benvenuta Allora, precisiamo una cosa Io mi vanto di avere come amico Federico Non Justin Bieber Hai capito Justin? Hai capito? Hai capito Justin? Mi stai simpatico Però lui è meglio Lo conosci Justin? Sì Sì, lo conosco Dove ne faccio? È Justin che conosce Donatella Io conosco Haley, sua moglie Ti salutiamo Ciao Haley Ciao Haley Ha fatto una campagna per me Questa campagna qua Ah sì? Sì, è riconoscibile perché l'abbiamo conciata un po' L'avete truccata Sì, mi ha fatto una cosa un po' forte Ho conosciuto prima Haley di lui Ho conosciuto lui naturalmente Lo vesto Nell'ultimo video mi ha messo la camicia Versace Adesso ho cambiato tutti i capelli C'è le trecine dappertutto Infatti Dread C'è sempre stato Versace Nelle nostre vite Nella tua Beh io sì, assolutamente Nel senso sono nato Che effettivamente era già E era ben bello in hype Infatti nel senso Quello è inevitabile che di primo impatto Venga da iconicizzare il tuo cognome Quando in realtà giustamente mi dici Diamoci del tu comunque Ma certo devo darci del tu Sì 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 Allora rompiamo gli schemi Perché io dico che questo È una roba culturale da mettere da parte C'è la persona che è più in alto di un'alta E uno si deve sentire Non all'altezza Questa è la cosa più sbagliata del mondo Io con i miei collaboratori Sono anche italiani, inglesi Di tutte le parti vengono E dico sempre questo Non guardatemi come nome e cognome E ditemi quello che pensate Perché se uno dice sempre sì Ti circondi di yes man Io odio quello E poi le aziende vanno male Io odio quello Io cerco di collaborare con le persone che non hanno il mio gusto Giusto No no e farsi dire da chi lavora con te le cose realmente Le cose realmente sì Io ho conosciuto tanti imprenditori e tendenzialmente le aziende che ho visto poi andar male erano quelle con l'imprenditore che quando entrava in ufficio tutti stavano scattavano e poi appena si giravano facevano un cazzo Ma io ti faccio un esempio di me stessa quando ero più giovane con mio fratello io ero quello che rompevo le scatole sempre Cioè questa cosa è vecchia ma c'è un'altra cosa lo spingevo sempre Ogni tanto non mi sopportava Perfetto vuoi andare via dieci minuti? Sì vado Appena dovevo via mi chiamava Quindi io sono stata il suo soundboard Come si dice? Beh la no man Soundboard Cos'è? Soundboard si dice Soundboard? Che cos'è il soundboard? Quando tu parli uno ti risponde La cassa di sera Io stavo per dire spin doctor È un'altra roba quella Soundboard Effettivamente perché c'è proprio il Di solito è in famiglia questa figura Una figura del genere Quindi Ma io sono capitato purtroppo per caso Non so se mi voleva veramente Beh allora mi viene da chiederti come nasce la storia di Versace Del brand Versace Allora Adesso qua Vorrei fare una cosa strappa lacrime Noi siamo del sud In famiglia di Reggio Calabria Naturalmente voi sapete che il nord Del nord è considerato Si considerano Si consideravano poi Dei peggiani migliori Di quelli del sud Più colti Più sofisticati Peccato che quelli del sud Avevano il coraggio di rompere le barriere La gente che ha sempre vissuto al nord Era più conformista Si nascondeva dietro Uno stile di vita Di vestire Non potevano essere criticati Perché non potevi dire Oh mamma guarda quello lì come si è conciato Conforme alla massa Noi invece Gianni non lo era Non lo era Né nella sua vita privata Né nel suo lavoro Gianni i primi anni Che è stato Cominciato a fare Lo stilista È stato criticatissimo Perché lui amava Pazzimente le donne E non voleva assolutamente Che fossero grigie Le chiamava lui Cioè Perfettine Algide Che si è esprimesse Che nel flesso La loro personalità Per cui All'inizio ha fatto Molto a fatica Perché nella moda Esisteva il bon ton Quella è una parola Che per noi Versace Non è mai esistita Anzi Meglio il cattivo gusto Del bon ton A un certo punto Perché almeno ti fa parlare Libertà Libertà E mi dicevano L'ho scoperto adesso Mentre sono arrivato Che il concetto di top model È stato introdotto Da Versace Certo Allora ti spiego Gianni stava a Milano Io facevo le campagne fotografiche E ho lavorato Con i più grandi artisti Di quell'epoca Avedo Nel Newton Che erano tutti artisti di rottura E c'erano le modelle Modelle che facevano le sfilate Soltanto E modelle che facevano le foto E io ho conosciuto Naomi Che aveva 15 anni e mezzo Cindy Crawford 16 Assurda Tutte le supermodelle Avevano quell'età E io facevo le campagne con loro Che erano stupende Gianni era felicissimo Di queste campagne Una volta le ho fatto lo scherzo Le ho portate a Milano Prima della sfilata Perché queste ragazze Sapevano posare Per le foto Però non avevano mai fatto sfilate È tutta un'altra cosa Camminare sulle passerelle Fotomodella e modella da passerella Sì a quei tempi Ok Io le ho portate Le ho nascoste Ma chi è quella? Ma com'è chi è quella? Ha fatto una campagna Cindy Crawford Ma va Infatti c'è Quando l'ho presa in giro Senza trucco E insomma L'ho costretto E Dani L'ho fatto ora Abbiamo pagato il viaggio Chi te l'ha detto? Nessuno Però l'ho fatto pagare Dall'amministrazione Mi volevo uccidere L'ha messa in passerella E veramente Da lì in poi Sono diventate supermodi Sono state le nuove celebrità Perché non c'erano celebrità in quel periodo È stata la rottura di un mondo abbastanza abbottonato Che ancora oggi c'è Un pochino c'è Però negli anni 90 Fini anni 90 Erano le attrici e gli attori Che erano le celebrità Però Siccome se le attiravano così tanto Io sono una che non è frega niente Di essere guardata Guarda come sta bene Erano troppo falsamente intellettuali Diciamo E le modelle Le supermodel Hanno portato la vera celebrità Libertà di esprimersi Ancora oggi credo che ci siano Delle case di moda Che non fanno sfilare le celebrità Credo Ma le celebrità Cioè Per celebrità Io non intendo una persona Super conosciuta Uno è niente al cerebro Se ha qualcosa da dire Sì sì Una personalità Ma se ha qualcosa da dire Perché se non ha niente da dire Se sei bello e basta Come me per esempio Ma scusa Infatti Ho visto Ho visto delle tue interviste Prima che venissi qua Perché la cosa che mi dà più fastidio È sentire Cioè Richiedere le stesse cose Anche perché immagino Cosa voglia dire Continuare a Parlare sempre Degli stessi argomenti E ho visto che comunque Hai detto che È come se le celebrità Fossero arrivate da te Proprio Sono nate Attaccandosi Cioè Attirate da questa medusa Effettivamente Dal cognome Dal brand E dalla tua capacità Probabilmente Di Di Sarà un rapporto Anche di amicizia E di Infatti Non ci sentivamo al telefono Ma non solo le celebrità Come modelle Ma anche La musica Cioè La musica Sempre contaminato La moda Quello che facciamo sempre Quando tutti gli altri stilisti Con tutto il rispetto Facevano le sfilate Con i DJ Noi avevamo Prince Che faceva Bel vivo Fantastico Così Incredibile No ma è vero No ma è incredibile Senza paura E di rottura proprio Anche lì Senza paura Totalmente Infatti Complimenti Qual è stata la prima Celebrity Collegata al mondo Versace Madonna Madonna La primissima Con cosa Aveva fatto un video E mi si era chiesto Dei vestiti Io gli ho fatto Un look Totalmente diverso Totalmente diverso Da quello che aveva lei La ragazza Tutta piena Di strada Quella calza a rete Strappate Con quelle robe lì Cambiamola Facciamola diventare Un sogno Abbiamo fatto Quest'abito di fifon Lungo Che volava Grigio perra Lei ha fatto i capelli Lunghissimi Come me Che sono lunghissimi Biondi E è Parta con questo look Madonna Ha rotto Ancora una volta Gli schemi Perché si è presentata Con un look Totalmente diverso Quindi anni 80 93 93 E subito dopo Ho fatto una campagna Fotografica Lei è stata la modella Della campagna E ci sono delle foto Eccezionali Chissà quanti aneddoti Ti avrai Sto pensando E' quello che pensavo Ho visto una tua storia Oggi Dello scambio di persona Che è avvenuto Adesso La metto nello schermo Volendo Lo scambio di persona Che è avvenuto Per un errore E hai detto Volevi blur E è arrivato blu Tu puoi raccontarci Questa storia Adesso me lo metto Nello sfondo Un difetto di pronuncia Io non la so Cos'è successo Vai raccontacela Volevo I blur E mi è arrivato Uno si chiama blu Ah i blur Il gruppo Tu volevi blur E mi è arrivato Ti è arrivato Un signore Che si chiama blu Ah i blu Quelli di Che canzone Hanno fatto i blu Non mi ricordo Anche l'italiano One for the Era tipo I backstreet boys Cioè io quando L'ho visto No Non li voglio Tagliate quella Cioè non è che Gli hai fatti venire Da un'altra città Gli hai fatti venire In E Con un jet Cioè quella La cosa incredibile Quando ero visto davanti Volevo morire Non so come dirti Non avevo il coraggio Di dirlo agli altri Non ero Voro saranno stati felicissimi Che bello Perché ci ha invitato Non si sono neanche chiesti Io ho studiato lingua L'università L'inglese Ma l'inglese Devi starci lì per impararlo bene È la pronuncia È la pronuncia È un difetto di pronuncia Ma è anche affascinante Infatti è giusto Secondo me mantenere La pronuncia italiana E non mollarla Non so fare altra A proposito di pronuncia Una delle canzoni più celebri Dell'ultimo decennio Dedicato a Versace Sono i Migos Che hanno completamente Storpiato Il nome A tal punto Che Donatella Ha dovuto fare una campagna Mi ricordo Dove spiegava Agli americani Io non mi chiamo Versace Mi chiamo Versace Giustissimo Versace 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 Era la mia suoneria Le medie Giuro Versace Versace Che fu la canzone Era scritta Drake Ah la scritta Drake Sì La canzone era scritta Drake Madonna L'ho interpretata Conosci anche Drake E' certo che lo conosco Sei stata a casa sua Sì Al campo da basket Ma sempre lì Al contrario Io la vedrei davvero Al contrario No no Sì vabbè Adesso non sappiamo Sì no Lo so Allora A me la musica Mi piace da morire Mi ispira Se devo dire Cosa che mi ispira Per fare la musica Cioè io guardo Gli artisti Gli artisti Che mi interessano Naturalmente Non quelli Che si nascondono Dietro qualcosa Di Classico Sì in Italia In Francia Non c'è nessuno Vabbè In Inghilterra In America E mi sento Sono sempre stata Pazza della musica E soprattutto La musica di rottura Infatti il genere Che fai tu Quando hai cominciato Io sono impazzita Ero Ero veramente Contenta di questo Figata Sì Bene bene Bello Perché mi piaceva Che finalmente Gli artisti raccontassero Una storia Parlassero veramente Ai ragazzi Certo E dicessero Cosa sta succedendo Meno abbottonati Meno abbottonati E poi Coraggio delle idee Quello sempre Ma si capisce Però Nel tuo genere Di musica di più Sì sì Secondo me Cioè Io noto Io non ho mai conosciuto Il mondo della moda Se non negli ultimi anni Grazie a mia moglie Ma io ti ho portato Per favore Sì E io noto Una grande differenza Tra Il mondo italiano Da una parte Donatella Che è proprio Completamente diverso Cioè è proprio Un altro mondo No Proprio di libertà Totale Di Essere Elitari Sì perché in qualche modo La moda è un circuito elitario Però Di anche non prendersi troppo sul serio Assolutamente no Quella è una cosa sbagliatissima Dall'altra parte È vero Il divismo C'era nella moda Nella moda La moda Nasce in parallelo La moda italiana E la couture francese È un mondo che nasce in parallelo E non si incontra mai No Io con gli stilisti Amici miei Che hanno anche lavorato per me Adesso però Lavorano per esempio Per Saint Laurent Antonio Maccarello Era un mio Disegnatore Ah sì? Sì Purtroppo di partire il mio gruppo Madonna Quindi E ci sentiamo ancora sempre Ieri siamo sentiti Ha lavorato per me tre anni Facevo la collezione Versus Io ho sempre cercato di prendere dei ragazzi giovani Con talento Dagli la possibilità E poi Cioè Se diventano importanti Lanciarli Lanciarli Ha funzionato tantissime volte Christopher Kane Anche lui Era uno di quelli che ha lavorato per me Jonathan Anderson G.W. Anderson Quindi è un tuffarsi costante Ti sei sempre tuffata Mi sono sempre tuffata con persone Di cui io Non ero capace di fare Quello che facevano loro Perché avevo molto più Background culturale Diverso Allora volevo sentire La loro opinione Su tutto Loro erano felicissimi Perché per loro Versace è un sogno Venire a lavorare Versace è stato sempre un sogno Di questo mi vanto un pochino Posso dirlo? Certo La voglia Di avere Esattamente L'entremi Maccarello Di Jonathan W. Anderson Che hanno creato Anche loro Delle cose incredibili In inglese In America dicono It's not bragging If you can back it up Quindi dai Giusto Cosa vuol dire? Non è Non so tradurlo Effettivamente Non è Non è traducibile Non te la stai tirando Non è Come si dice? Bragging? Ma non lo sai nemmeno tu Esatto Non te la diri se lo puoi dimostrare Se effettivamente Hai fatto quello che hai fatto Nel senso Hai tirato su Quello che hai tirato su Io non l'ho capita Nel senso Tu puoi dire Anch'io Ho riempito San Siro E non te la stai tirando Perché l'hai fatto Perché è vero Esatto Però non è vero Alla fine te la stai tirando E ci sta No perché è giusto È un dato di fatto Si dice oggettivo Sono orgogliosa di questo Mi piace dire No Cosa mi piace dire Che la moda Deve essere aperta a tutti Cioè non puoi stare Nel tuo piccolo mondo Laureare solo Con quel tipo di gente Devi avere delle persone Che non la pensano come te Per ispirarti E per farti andare avanti Essere contemporanea Assolutamente Quindi questo io lo faccio sempre Mi è capitato di tre Che possono diventarsi famosissimi Però ne ho altri Altri ragazzi Immagino Anche nel tuo team Immagino Ragazzi da tutte le parti Del mondo Coreani Cioè l'importante è anche L'inclusione L'inclusione di mentalità diverse Infatti secondo te All'interno di Versace Oltre a te Chi può essere un pilastro Del marchio All'interno di Versace? Io Tu Oltre a me Donatella Ok Cioè Versace E Donatella Per ora sì Però Però io cerco sempre Di portare gente Dentro Perché un giorno Ci sarà Darò spazio A qualche persona Molto piacere Devo darlo Prima o poi Qual è secondo te Il Al di là Dell'arte Cioè Io vedo la moda Veramente come Un Il lavoro di bottega No Cioè un'arte Tutta italiana Onestamente Che si eleva Fino a diventare qualcosa Che va Al di là Dei confini No? Però in qualche modo La moda viene vista Come qualcosa Veramente di Effimero Di superficiale Però Può avere anche Un ruolo In qualche modo Politico E restituire Delle fotografie È che La moda Deve avere Un ruolo sociale Cioè Era elitaria Forse negli anni 90 Ma non adesso Cioè La moda vive su Instagram Adesso vive sui social Si vende e-commerce I ragazzi vanno su e-commerce A comprare I ragazzi più giovani Quindi Io sto molto attenta A quello che succede Mi adeguo A tutto questo Quindi La moda Si è democratizzata Se si può dire Che ci sia una democrazia Da qualche parte Non lo so Però Si è democratizzata molto Si adatta Si adatta Anche se Poi lancia il trend Si Si adatta E restituisce Le fotografie del tempo Certo Cioè se tu pensi A il Per esempio Il vestito Iconico Non so se è il più iconico Jungle dress Jungle dress Di Jennifer Lopez Non è solo il jungle dress Cioè È la fotografia Di quegli anni lì In qualche modo Ti devo raccontare un'anedota Su questo jungle dress Lei l'ha messo nel 2001 Per andare Per accompagnare Puff Daddy Che salutiamo Ciao Puff Ciao Puff Ciao JLo E ha messo questo vestito Il giorno dopo Ha fatto un passaggio Nelle televisioni americane 84 volte Tutti cercavano questa immagine Ma non la trovavano Google Perché Ha sentito Ha visto che tutti Provavano questa immagine Ha creato Google Images È nato con quel vestito Capito Quindi Cavolo Capito Ma è la verità 100% Cioè Google Images È nato con il vestito di JLo C'hai capito Io non posso neanche andare contro A questa affermazione Nel senso Non ho dati E la prendo assolutamente Mi fido ciecamente Che va Google Effettivamente Infatti Quando JLo È venuta da noi Due anni fa Cosa è stato? Che è stato Ah è vero Che era Google Mi ricordo Ma fa tutto l'oro Sì sì Ma pensate Bellissimo Questo mi dà un sacco di Cioè Me la dirò un po' Perché pur non essendo Una persona che è nata Nel periodo Dei social media Però Hai fatto Hai fatto parte Di passi importanti Lo ripeto Non bragging Comunque sono contentissima Di essere qui con voi Forse lo devo dire prima Lo tagliamo E lo mettiamo all'inizio Io aggiungo Sono contentissimo Di averti con noi Nel senso Grazie di essere Di essere qui Comunque Nel senso È un'occasione Molto bella Io sono qui per lui Ma anche per te adesso Ok grazie Da dieci minuti Da dieci minuti Quando ti sei seduta Hai già detto Luismo E per me era Poteva Luicismo Esatto Comunque sì Mi ero segnato una cosa Mi ero segnato una cosa Che volevo dirti No no Non era Era Così L'ho fatto Vabbè no Una cosa Come nasce Non l'ho mai guardata Quella mia No 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 Il logo Non so se è una storia vera Il logo della medusa Nasce Dalle maniglie È un'ispirazione Che Gianni ha avuto Dalle maniglie Della porta D'ingresso Di via del Gesù No No Ok No La storia è così Gianni era ragazzino In Calabria C'erano degli scavi In una ferrovia Non so Noi abitavamo Quasi sul mare Nella nostra casa Facendo questi scavi Archeologici È venuta fuori Questa testa di medusa Che era Non so di quale periodo In Calabria In Calabria È venuta fuori Questa testa di medusa Siccome tutti Andavano a vedere Cosa c'era Sono un po' lenti Lì per finire I lavori Noi andavamo a vedere Cosa c'era Perché c'erano Pezzi di colonne Quelle cose stupende Sono venute fuori E c'è Andavamo su questa medusa E si è innamorato Il classico Avete scritto Una stronzata Su Wikipedia C'è scritto Correggete Correggetelo subito No ma anche io Ho sentito Questa storia Non so chi l'ha raccontata Nella maniglia di Gesù C'è scritto così Cioè non è che ho fatto Una ricerca C'è stato su Wikipedia C'è scritto A Wikipedia Non nemmeno chiamata Non so Vedi tu Ti hanno chiamata? Ah non ti hanno mai chiamata Wikipedia Mi raccomando Non come Google Images Che effettivamente Si è dato totalmente Bellissima quella cosa Ma effettivamente Come per le star Eccetera Sono arrivati da te Avevo visto anche Un'altra Un'altra intervista In cui dicevano che La moglie di non so Quale grande attore Una sera si mise Un capo Versace Che aveva delle spille Elizabeth Terley Esatto E lì Hugh Grant era lui Esatto Non due tipi Qualunque Comunque lì Quella sera Lei è passata Ha preso la scena E più di lei Il vestito Infatti lui era Incazzato Incazzato nero Perché lei ha preso Tutti i giornali Tutte le televisioni E di questo vestito Questo vestito Era veramente Gianni L'abbiamo usato moltissimo Perché prima Si vedeva un pezzettino Di pelle Poi di più Poi di più Poi di più Con me No ma Gianni è stato I primi anni Che Gianni era a Milano Come dicevo prima C'era questo Bon ton Questa signora milanese Perfettina Con la borsetta E tutto Gianni faceva tutto il contrario L'hanno accusato Di vestire le Posso dirlo Le zoccole Lui ci soffriva molto Per questo Ma io avevo detto Fregatene Fregatene Perché tu stai facendo Qualcosa di rottura Le sue donne Erano Appariscente Non avevano paura Della loro femminilità Le ha fatte sentire Più sicure Ha fatto un cambio Incredibile Una rottura Pazzesco E il mercato Non mi piace dire Il mercato Però la moda Si è adattata Si è adattata Quello Il costume La linea Esatto La linea di Versace Pur essendo Si trasforma E' rimasta E' rimasta Con quel DNA Molto preciso Poi è chiaro Che il DNA Deve evolversi Quei tempi Però E' quello E' una specie Di ribellione Una cosa un po' Sare fuori dagli schemi Super figo Bruno Mars Ha fatto una canzone Versace on the floor Versace on the floor Sei nel video Io sono nel video Fantastico Anche lì Io con le modelle Comunque Sì sì Vabbè Infatti Tutte sedute Perché io devo sembrare Alta Bellissimo Bellissimo Ma invece Un aspetto Che ritengo Molto importante Nella vita Se non prioritario È La cura del corpo E io vedo Che sei Super tonica Comunque Io ho fatto Tantissima Tantissima Ginnastica Da Dove ho avuto La mia prima figlia Perché Non tornerò mai Più come prima Ero praticamente Posseduta Dalla ginnastica E dal mio trainer Molti risultati E molti risultati Che ho ottenuto Credo Credo sia fondamentale Proprio per far Lavorare bene La creatività A quanto pare C'è qualche cosa Di Versace Un po' fit Che vuol dire fit Da fitness Volevo dire Sì Sì Bene Quindi Ho sempre avuto La sensazione Che ci fosse Sempre tanta competizione Però tra case della moda In realtà Si riescono ad avere Rapporti Di amicizia I disegnatori Sì Io sì Quei disegnatori sì Ma con i proprietari No Quindi Sono fatti loro Mi affittano i delegati Io ho i numeri Proprio come Nintendo Quindi mi piace Parlare Io ho dei rapporti Bellissimi Con loro Poi li stimo Moltissimo Sondra Michela Ha fatto una grandissima cosa Per Gucci Anche Anthony Vaccarello Per se lo ranno Però quindi Con le case di moda Invece C'è più una competizione Ti faccio un esempio Guardavo In questi giorni Valentino Rossi No? Vabbè Sembra una cagata Valentino O Valentino Rossi Valentino Rossi Che va in moto Che c'è anche la brand Valentino Che con Marquez E Lorenzo Che si è messo A impennare Valentino Per Paolo E ci lo andasse in moto Un po' confusa Non lo vedo Io che c'è in moto Per Paolo Valentino Rossi Con i suoi Diciamo I massi I campioni I più grandi Leggendari Delle moto Che corrono E vivono Praticamente Nello stesso contesto Insieme C'è un'intervista Dove dicono Sì Siamo amici Nel senso Ci salutiamo Ma non riusciremo mai A essere realmente amici Perché viviamo Un rapporto di competizione Tale Che non ci permetterà mai Di essere amici Fraterni Quindi io mi immagino Che nel mondo della moda Sia un po' la stessa cosa Come giusto che sia Sana competizione No Per me no Perché abbiamo Ognuno ha il suo Ogni brand Si presenta In una maniera diversa Dall'altro Io perché Dovrei essere in competizione Con Gucci Che con tutti i rispettori È bellissimo Quello che fa Ha stravolto La moda Però io non farò mai Quelle cose Non è me Non c'è Non c'è Sì Tu avendo Infatti Così caratteristico Versace Io non riesco a smettere Di guardare Quella borraccia Il vero scettro È bellissimo Sì davvero Effettivamente Non riesco a smettere Di guardare la Medusa Adesso a un certo punto Se vedete che non parlo più È perché Ha funzionato Scusa di mettere Una faccia di Medusa Però sì È difficile Che un altro brand È Versace Cozzi C'è davvero Tanto caratteristico Qual è il genere Che ascolti di più Ma chi è il tuo preferito Il rapper preferito Non puoi dirlo Eh non ci sono Favoritismi Ti dico uno che non c'è più Purtroppo che è morto È Notorious B.I.G Lo conoscevi È stato ucciso A marzo del 97 Mio fratello è morto a luglio E noi abbiamo fatto Questo memorial per Gianni a New York Tutta la sua famiglia è venuta Perché sì Allora Adesso ti faccio morire di invidia Siete pronto? Sì Vai Io ho conosciuto Tupac È stato a casa mia E Tupac Ha fatto la musica dal vivo Per una mia ispirata In Via Gesù Assurda Casa tua Sì Era appena uscito di prigione Era una cosa favore Perché Gianni Ma questo qui è in prigione Non ti preoccupare Sta per liberarlo Infatti È riuscito di prigione È messo su un aereo È arrivato a Milano E a California Dreams Certo Ha cantato quella Per la stilata uomo In Via Gesù Abbiamo costruito un palco Sospeso Nell'aria E lui Dal palco da sopra Si è messo un disolto Con le gambe giù E ha cantato per me Chi sa l'influenza Che hai avuto nel mondo Dell'hip hop Effettivamente Ma tantissimo Cioè sei Che l'avrebbe mai detto Di tutti i trapper italiani Rapper italiani Tupac Incredibile Impressionante Effettivamente Questo aspetto qua E Notorious Invece Notorious L'ho conosciuto Con Tupac Con Tupac L'ho conosciuto Ma poi Un mese dopo L'hanno ucciso Quindi l'avevo visto Solo una volta Però Li sentivi parlare Era veramente Ti apriva Ti apriva il cervello L'iricista Vero Notorious Cosa che io Al momento Non capivo Però ero curiosissima Perciò ti dico Che la musica De Versace E la musica Sono una cosa No si sono influenzati L'uno con l'altro L'uno con l'altro Perché Cominciamo da Tupac Fino ad oggi E lì Allora comprendi Cioè per chi vede C'è tutto un mondo intellettuale Che vede il mondo della moda Come superficiale Cioè comprendi Che va veramente Oltre Al lusso Allo sfarzo Cioè È parte integrante Proprio della Della cultura È sociale anche Cioè fa parte del sociale Di quello che vuoi dire Perché Veramente i primi rapper Come Sono i primi rapper Su Tupac Ti raccontavano Veramente il dolore Cioè la frustrazione Di quello Degli afroamericani In America Di come erano trattati Della disuguaglianza Cioè ti raccontavano Cosa veramente dolorose Per cui E il fatto di prenderli E il fatto di prenderli E inserirli in un mondo Che non era il loro Che fino a prima Non li avrebbe mai accettati È una legittimazione È una legittimazione anche Di un genere No Musicale Chissà se c'è un collegamento Tra effettivamente Cioè partire da Reggio Calabria Penso E Influenzare il mondo intero E essere influenzati Anche da culture totalmente diverse Influenzarle Chissà se c'è un collegamento Tra Reggio Calabria E Brooklyn Non lo so se è quello Io ho vissuto Reggio Calabria Fino a 17 anni Poi sono andata a Firenze All'università Fata l'università a Firenze E poi sono andata subito A lavorare con Gianni Si è andata a Firenze In lingua e letteratura straniera La penza In lingua e letteratura straniera Sera prima Leggevo il libro E da lì Poi sono andata Gianni Ha avuto il primo lavoro Che era vicino a Firenze Lavorava per una dita Callaghan Si chiamava E mi chiamava Vieni Dai aiutami Gianni Insomma poi C'è mia madre Che era No Ti ho mandato lì Studi Ti hai l'esame Se no ti faccio Eccetera Però io La prendevo in treno Io prendevo il treno Da Firenze La prendevo in treno E il weekend Lo passavo con lui Pazzo Pazzesco Pazzesco Firenze Bologna Gli NWA li hai conosciuti? Gli NWA? No Ok Mi mancano Sto pensando E ami gli Stati Uniti Ho sentito Insomma Gli Stati Uniti Negli ultimi quattro anni Li ho odiati Sì? Ah beh Ok Posso intuire Però Gli Stati Uniti Mi piacciono Perché È un insieme di culture Cioè Messo lì Che In qualche modo Devono confrontarsi Si confrontano In maniera un po' Cioè Trovo che c'è del grande Una parte Gli Stati Uniti Che è conservativa E ha delle idee Veramente Arcaiche L'altra parte Che Fin troppo Forse Progressista Progressista Allora Non c'è una via di mezzo Sì non ci sono le mezze misure Non ci sono sfumature Però a me piace Non ci sono le mezze misure No no è bello Macchinone Macchinino Cioè andare d'accordo con tutti Macchinone Macchinino Ma chi se ne frega Di andare d'accordo con tutti Sì sì è vero No infatti Loro passano davvero Dal presidente afro Al presidente Trump Cioè Come fosse niente Incredibile Sì sì No vie di mezzo Sì sì Versace infatti Va forte lì Perché effettivamente Non è Non ha vie di mezzo Almeno è bello diretto È vero Non ci avevo mai pensato Forse più di qua Non so Dov'è che è più forte Versace? Beh in America Siamo conosciutissimi Sì Poi adesso Con i social Aspetta la pandemia Quest'anno di pandemia Abbiamo ripensato un po' tutto Il sistema moda Perché la moda era un po' Il concetto di andare in boutique A comprare i vestiti È elitario se vuoi Perché un ragazzo Un ragazzo giovane Non va in boutique A comprare i vestiti Diciamo che questa pandemia È stata una cosa tremenda Per tutto il mondo Però ci ha fatto pensare Noi abbiamo Abbiamo rinforzato E-commerce come non mai Abbiamo messo delle cose Che la gente compra facilmente Sui come La tua maglietta per esempio Guarda che Compratela C'è su e-commerce Non posso dirlo così E durante la pandemia Ci ha salvato e-commerce No Beh la pandemia E più volte L'abbiamo detto in questo podcast Non ha fatto altro Che accelerare Un'alfabetizzazione digitale Che sarebbe stata inevitabile Ma Ha bruciato le tappe Diciamo Adesso io penso Le collezioni Quando guardo I cavi li provo Sulla modella Ma questo come sarà Su Instagram Come viene Comincia a pensare Com'è sul telefono C'è incredibile Come cambia tutto La musica Sai che è uguale? Io quando ascolto I mix delle canzoni Quando mixi una canzone Una volta Le ascoltavi Con le casse Sì Invece adesso Io le ascolto qua Perché Cioè È il mezzo Con cui tutti Utilizzano Anche per i video Io lavoro nei video È terribile Che Abbiano telecamere Sempre più evolute Definizioni incredibili Audio Impressionante Però no Le guardiamo Con schermi Però è una realtà Sarà sempre più così Infatti l'adattamento È fondamentale Ma per me L'immediatezza Capisci Di quello che ti dà La tecnologia E qual è il tuo tessuto preferito? Non so perché Mi è venuto in mente Il tuo tessuto preferito Il tuo tessuto pesante stretch Oh Non so neanche Non so neanche io Non so sino Bello Bello Sì sì Il mio tessuto pesante stretch Bello Ecco Buona sapienza Mi piacciono molti i tessuti B-stretch Che sono da una parte E dall'altra Perché Mono stretch Ti risolgo da una parte Ah giusto Perché Anche per uomo Ne uso moltissimo Nelle giacche Anche nelle cose formali Perché Stanno meglio sul corpo Accompagno il corpo Sì Cosa pensi dello streetwear? Lo streetwear? Supreme Supreme E tutto ciò In qualche modo è stato Io trovo che sia una cosa È stato rivoluzionario Importantissimo E Lo guardiamo tutti con molta attenzione E facciamo tutte le collaborazioni Se possiamo Hai fatto Non hai mai fatto collaborazione Supreme Versace Ho fatto Non Supreme Però ho fatto le cose a New York KIF Eh Ho fatto KIF Bello Perché è un negozio super cool A New York Sì 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 Loro me ne ho chiesto Cioè Le collaborazioni Me ne chiedono tante Io cerco di scegliere Quelle giuste Secondo te Come è stato percepito Dalla moda Il mondo dello streetwear? Un fulmine a ciel sereno? No Io me lo aspettavo Assolutamente Ma se segui Cioè la tecnologia Ti porta ad aspettarti questo Cambierà molto tutto Cioè veramente Specialmente nella moda Bisogna adeguarsi Perché ti ripeto Ancora L'esperienza di andare In una boutique È un po' So passata Cioè O quel posto diventa Un posto dove tu incontri musica Vestiti Tutto quello che piace Alle nuove generazioni Si Diventa Si amalgama Con tutto il resto Della cultura sociale Qualcosa deve cambiare Io ho la sensazione Che lo streetwear Più che Più che lo streetwear In qualche modo Ha contaminato l'alta moda Assolutamente Ma in qualche modo Lo streetwear è stato contaminato L'alta moda Se io guardo Virgil Che è Diciamo Il designer di riferimento Per chi segue lo streetwear Anche Kim Jones Anche Kim Jones Però Secondo me Virgil Virgil è più Stradbella Però io ho la sensazione Che in Vuitton È più Vuitton Che ha cambiato lui Che lui Che ha cambiato Vuitton Ho questa Posso dirlo Però che Invece io mi aspettavo Che Mi aspettavo Che vedesse un po' Di quello che ha fatto lui Nella sua linea Vuitton Che ci fosse questa Più contaminazione È andato cauto Non so se lui È andato cauto O se gli hanno messo Delle regole Perché Vuitton È un'azienda Famiglia Arnò Stratosferica Comunque è una famiglia Che Sì ma poi Fanno dei fatturati Stratosferici Per cui Devi stare attento Prima di cambiare Però vedi la differenza Tra la moda francese Che in qualche modo Osa di meno Compromesso E la moda italiana È molto più Basata sui numeri La moda francese Della moda italiana Sì sì Le sneakers Ha fatto veramente Una cosa incredibile Ma sai che anche Sono molto brava con le sneakers Chi? Kanye West Parliamo di Kanye West Parliamo di Kanye Ho comprato le sue ciabatte Sono comodissime Quale hai preso? Quelle di plastica? Sì Sembrano delle Slippers Normalissime Io invece ho le ciabatte Quelle in pile Che hanno il tacco Cioè Se tu pensi Agli elementi di riferimento Del costume Degli ultimi dieci anni Sono tutti Collegati a Kanye West Virgil Assolutamente Lui è stato il primo È stato il primo Virgil lavorava per lui Sì esatto Gli ha disegnato la sua Gisi L'altro Ma infatti Kanye ha preso E' venuto in Italia Mi sembra Gery Lorenzo anche Ha lavorato con lui Io ho avuto Gilda 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 Dei primi tempi Da me In ufficio Per due settimane Che lui voleva fare Il disegnatore Capito E ora vorrei per me Allora finisce Fammi guardare Io facevo le prove E lui disegnava Dappertutto Fazzolettini 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 Mi ha chiesto Perché è una persona Molto intelligente Mi ha chiesto Dove producete i vestiti Mi ha chiesto In un'altra fabbrica Che è a Novara Mi ha chiesto Di trascondere Otto giorni In fabbrica Per vedere la produzione Da dove comincia Dai tempi di produzione Cioè è una persona Super intelligente Super intelligente Perché non ha guardato Solo l'aspetto Cioè come si fa Ha guardato tutte le prove Però ha voluto sapere Come Ha fatto degli stage Sì Io so Mi raccontava anche Silvia Venturini Di Fendi Che la stessa cosa Virgil e Kanye Si presentano da Fendi E dicono Possiamo fare I ragazzi di bottega Si si Cioè lui È venuto in Italia Per imparare L'arte Della moda A Novara Abbiamo La nostra vita di produzione Come lo guardavano Perché Sono stati tranquilli Ma Conqu'è Lui è veramente Un'intelligenza superiore Si si Pazzesco E poi Un senso della moda Incredibile Eppure Se ci pensi Lui come designer di moda Togli gli izzi Che sono un caso a sé Però nella moda Cazzo non è mai riuscito A fare quel Quello Secondo me Perché c'era troppe idee C'era troppa roba Troppa Lui si Lui si Ha tornato a sé Tantissima gente E poi continua Per esempio Gli stylist Che hanno un ruolo Molto importante Adesso Quelli giusti Nella moda Io ho lavorato Per 15 anni Con uno stylist Che ha lavorato Per cani E mi chiamava Io sono disperato Perché io metto insieme I capi Faccio i look Metto i nomi Dei modelli Torno la mattina Lui ha cambiato tutto Ma tutto Disperato Perché Non sai cosa faceva Dopo che Aveva messo insieme La collezione La metteva su Instagram E diceva Chi vuole venire A fare lo styling Venite da me Qui sono 20 ragazzini 30 ragazzini Lì a rifare tutto E il vero stylist Che gli faceva Era disperato Certo Prima È la follia del genio È la follia del genio Sì Lui è un genio Sì Concordo Kanye West È veramente È vero Visto che Sembri molto appassionata Di tecnologia Sì Però non su fare niente Sono appassionata Invece qualcuno Quello fa per me Elon Musk Lo conosci? L'hai mai visto Elon Musk? Ma secondo te Certo che l'ho visto Allora Intanto Stavo con la cantante De Grims È stato con lei Io l'ho conosciuto Lei prima Ma c'è sempre la musica Del mezzo Certo c'è sempre la musica E loro E loro hanno fatto Dopo una filata A Parigi Di alta moda Loro hanno Performato Per me Nella mia suite Quindi avevano Pochissimi ospiti E loro È una cosa Stupenda È stata Quante performance Private Sono avvenute Musicali Intendo Ma c'era Chiunque Le hai mai documentate Queste cose Hai un video Di Tupac Ce li hai Tutti per te Ma devi farli uscire Da qualche parte Posso venire A editarli tutti E faccio un filmino Totale Ma no È un repertorio storico Sì perché effettivamente Ho sentito che Tu non vorresti Scrivere un'autobiografia Perché ti piace Tenerti giustamente Le cose per te No farei un casino Della Madonna Le tante denunce Infatti Io vivo con la gente C'è quella La gente vuole Che era nominata Altra no Certo Sì Eh perché ora infatti La privacy è sempre meno Però quando muoio C'è il libro pronto Vabbè Ma non scherzo Vabbè per fare un po' di casino Lo dico sempre Io lo farei Prima di andare via Faccio un po' di bordello Anche mia mamma Lo dice sempre Sul letto di morte Ti dirò tutte le cose Che ho fatto Anche io No 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 Non voglio sapere No dicevo Elon Musk Sai L'ho conosciuto attraverso lei Ah E No Quello che ti volevo chiedere Mi interessasse qualcosa di me Non credo Attraverso lei L'ho conosciuto L'ho visto uno o due volte È un genio pazzo Completamente Mi ha fatto un'impressione Un po' strana La prima volta Perché parla Un po' la sua maniera Sì Ho sentito La sua intervista Recentemente L'ho visto con una bandana Lui non mette la mascherina Va in giro per lei Con Un po' robotico Vero Con una bandana Vedi che è una mente diversa E ragiona sicuramente Fuori dagli schemi Totalmente E sai Lui ha SpaceX Ed è Jeff Bezos Ha anche lui La sua compagnia spaziale E sta testando Jeff Bezos I razzi Per fare i viaggi Per i turisti Nello spazio Tu Ci andresti? Sì Sì? Ho paura Eh Cioè Con tutti i rischi Ci andresti? La mia curiosità Non ha limiti Cavolo Fluttuare Volare Effettivamente Cioè Una sensazione del genere Sì È che Chissà come torni No Chissà se torni È quello il tema È quello lì il tema Ah ma degli astronauti Vanno Cioè Se ti proponessero Di fare il primo viaggio Nello spazio Con chi? Come turista Da sola No Ti scegli qualcuno Che ti fa un concertino Nello shanto Vengo io Io Se avessi c'è Quattro e vendici Uno come te Frigo bar Cioè In quattro Farci coraggio Andiamo Sarebbe pazzesco Jeff Bezos Primo shuttle turistico Arredato Versace Bellissimo Donatella Donatella Che vola Donatella Justin Bieber Io Tu vuoi venire? Sì Luis I migos I migos Le borracce Tutti con le borracce Raga Spasics Davvero Jeff So che la guarderai Lo so Quindi Pensaci Faccio tradurla tutta io Se vuoi Ok No io personalmente So Io amo Donatella Perché prima del covid Ogni settembre Lei fa una festa a casa sua Tu devi venire Io vengo sempre Vengo sempre Per stare con Donatella Ma principalmente Perché a tutte le feste Di Donatella C'è Gigi E ogni anno Si ripete Io mi arrabbio Perché guarda che moglie Che hai Cosa te ne frega Di Gigi Hadid Giusto Giusto Però ogni volta Si ripete questa cosa Imbarazzantissima Dove Gigi Hadid Non ha voglia Di farsi la foto con me No E Donatella va lì E gli fa E fai la foto con Federico E non rompe E fai la foto con Federico Guarda adesso ti conosci benissimo Sì Gli ho mandati i tuoi brani Adesso Iiii se capisci l'italiano Io mi ricordo questa cosa La sfilata famosa che dicevi Dove Jennifer Lopez Ha reindossato Il Come si chiama Jungle Dress Jungle Dress C'era la festa A casa di Donatella E arriviamo io e mia moglie E mi ricordo questa scena C'era Donatella Seduta su un divanetto Con il manager Di Jennifer Lopez E Jennifer Lopez Donatella ci viene E fa Federico vieni E vi ricordo questa scena C'era Jennifer Lopez Seduta Guarda Jennifer Lopez Donatella gli fa Jennifer Vai a fare la foto con Federico Vai Dai su Così E io lì ho detto Wow Sono a casa Insomma E intanto E intanto che sei un'artista Perché non l'altro Cioè fatevi la foto Ti permetti di trattarle Umanamente Nel senso Sono amiche Molto molto amiche Io la conosco Da prima che diventasse Jennifer Lopez Quando lei usciva con Puff Daddy E la conosciuta attraverso Puff Daddy Perché eravamo a Parigi Quante storie che devo raccontare Paura 150 anni Ma hai degli aneddoti Sono infiniti Facciamo quattro sfilate l'anno Quindi ci ho aneddoti Degli aneddoti pazzeschi Puff Daddy era invitato alla sfilata E' arrivato con lei Che nessuno la conosceva Aveva fatto il film Selena Però nessuno la conosceva Mi fa Te la lascio qui Come me la lasci qui Scusa No dai Mettila a posto per la sfilata Ah ok Per vestila Per vestila Per tutto Io ho messo una chip Di trucco Capelli Di tutto L'avete acchittata Lei aveva i capelli ricci E io li avevo stirati Con questi liquidi Che si usavano Allora E' arrivata dritta così Alla sfilata Era Era bella Già Di suo Ma era un incanto Con gli usciti Da lì Incredibile Qual è stato l'artista Si può dire Magari non puoi dire L'artista che Ti ha influenzato di più Che mi ha ispirato di più Prince Prince Sempre perché non si faceva prendere Diciamo Ti spiego Ti dico una cosa Che sembra incredibile Però è vera Prince ha fatto una corona sonora Per me Per la sfilata a Parigi Quando Gianni era vivo Che aveva Un po' di parole Diciamo Osè Dentro E io L'abbiamo fatta al telefono Perché lui era in studio Con i tecnici E io al telefono Senti Allora va bene così A me ha introdotto in questa canzone Tutti i nomi delle modelle Che sfilavano Claudia Schiffer Tutti quei tempi Te la devo fare sentire Perché C'ero solo io Non si può pubblicare Dimenti E lui l'ha fatto E sai come si chiamava Pussy Control Pussy Control Ma fa anche E come il ritornello era Pussy Control Mio fratello fa Ma che dice Ma no parla dei gatti Gli ho detto Pussy Cato Non è bucisa Oh mio Dio Pazzesco Quanta creatività Mi viene da dire No? Cioè Mi basterà per tutta la vita E oltre Piccadro quanta memoria Quante memorie Ma sai come fai a dimenticarti Di ogni parola Che ti ha detto Prince Effettivamente A parte che non parlava con nessuno Quindi quando parlava Lo ascoltavi Ma certo E adesso c'è Black Lives Matter Black Lives Matter L'ha cominciato Prince E' stato lui il primo A portare avanti questa cosa Adesso è diventato Un movimento più grande Però mi ricordo Prince Solenni Kravitz E Paftad Insieme E in qualche modo C'è Magari dico una cazzata Ma il fatto che Questa fusione Tra mondo della musica E mondo della moda Ha aiutato Ad emanciparsi Anche tanti artisti In qualche modo A dargli Un qualcosa Un riconoscimento Che fino a prima Sicuramente L'immagine Fa tantissimo Come ti presenti Perché se già Ti presenti E non parli L'immagine ti cattura Poi l'ascolti Poi senti quello Che ha da dire Il fatto che Una casa di moda Di sicuramente Un mondo Come dicevi tu Molto snob Molto elitario Ci sia stata Una casa di moda Italiana Come Versace Che abbia aperto le porte A degli artisti Che non sarebbero mai Potuti entrare In quel mondo In qualche modo E' stata una legittimazione Che ha valorato E ha dato credibilità A degli artisti Cioè In qualche modo Non dico Ci siamo tutti e due Abbiamo guadagnato Tutti e due Solo che Noi come brand Versace Io sono pazza Della musica Era cosa che mi piace più Non dopo la moda Con la moda Nello stesso livello Mi piace la musica Per cui Io sono Ho sempre cercato Artisti nuovi Non mi ricordo più Questo che devo dire Mi hai chiesto Non era una domanda Ho perso il filo Ma dicevo Come Viaggiano Viaggiano Di pari passo E Cioè Dico una cagata Ma probabilmente Senza Versace La musica Non sarebbe stata la stessa Chi lo sa Molto probabile Non lo so Però Probabilmente È influenzato Ben forte Magari ci sarebbe stato Un altro Proprio tardi Però In questo mondo È così Chissà se Lo spazio Occupato da Versace Sarebbe stato Effettivamente occupato E quando E da chi E come In un altro universo Magari Perché Sicuramente Alla fine Sarebbe successo Perché non ce ne possono essere due No Però alla fine Come ti vesti Parla di te stesso Prima di cominciare a cantare Sei sul palco Tu Io ti guardo So già chi sei tu Per come ti vesti Lo puoi dire anche su di me No Sono totalmente neutro Però tu non sei neutro come persona Eh faccio il contrario infatti Non mi esprimo quei vestiti Infatti ti vesti da neutro E poi sei matto come un cavallo Esatto Esatto Sì sì Non mi piace È proprio il contrario Il contrario sì Non mi esprimo quei vestiti Ma mi esprimo con le azioni Poi se stessi zitto Che parla Esatto Neutro e zitto Vento vestito così Neutro e zitto Io scappo Esatto Allora io ho avuto Mi hanno influenzato tanti artisti Ti faccio la domanda Però posso dirti che la musica italiana Non è che mi interessava tanto Prima Da quando sei venuto fuori tu invece Io ti ascolto Ma che cazzo dici Ma che cazzo dici Abbi rispetto No ma ho rispetto Ma dai Hai dei complimenti Ma lo so Prendili e fai Anche se non ci credi Prendili come No ma tu ci devi credere Ok Ok Tu veramente hai dato Hai dato la prova Che non sono solo Gli americani Gli afroamericani Che danno questi messaggi Anche di dolore se vuoi Di solitudine Tu hai cominciato A darti i tuoi messaggi Agli italiani Che forse sono un po' meno Aperti Diciamo Ascoltare certi discorsi Però non sono stato il primo Chi è il primo di te Ma voglia Non c'è memoria No mi fa imbarazzare No sei il primo Sei stato il primo Ma sei il primo che ho voluto ascoltare Ok Ma se non sei il primo Sono stati i tuoi No mi fa piacere Mi imbarazza un sacco No non ti imbarazza Poi Non perché sei qui Non tagliate questo pezzo Esatto Questo no Devo fare i miei complimenti Per il primo maggio Grazie Sei l'unico Che ha avuto Gli attributi Per dire Come stanno le cose Veramente Per fare ragionare Un po' Con questi ragazzi italiani Ti faccio i complimenti Sei stato veramente Geniale Bravo Coraggioso Io sono impazzita Quel giorno Grazie mille Però guarda che Secondo me I ragazzi Ragionano già Ragionano già Però Tutti anche ci sono Delle invasioni malefiche E tutta la parte Retrograda Che è Ma tu hai avuto Un coraggio incredibile Grazie Nessun altro L'avrebbe fatto in Italia Grazie Ho preso delle goccine Per salire sul palco Testimone la mia assistente No Ero sull'orlo Di una crisi di nervi Eri arrabbiato Rincazzato Rincazzato nero Rincazzato nero Però Ma è passato Su D.D.L. Zan o no ancora? No 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 È tutto in mano Io mi chiedo Quando passerà? Poi la gente Accetterà? Perché c'è anche un problema Di società che deve accettare Sai Il tema Secondo me È molto semplice Sul D.D.L. Zan A prescindere dal fatto Molti si adentrano Sulla questione È scritto bene? Non è scritto bene? Sono d'accordo? Non sono d'accordo? Si istituirà un reato D'opinione Che non è vero Poi Lutero in affitto Tirano fuori Che non c'entra nulla Con il D.D.L. Zan Cioè non è minimamente menzionato Il tema qui è un altro Cioè Poi chiudiamo la parentesi Il D.D.L. Zan È un disegno di legge D'iniziativa popolare Che è già stato approvato Alla Camera E che deve essere Votato in Senato Qui il tema non è È giusto o sbagliato Il D.D.L. Zan È un disegno di legge Che segue un iter democratico E un singolo Una singola persona Che è il presidente Della commissione giustizia Sta facendo di tutto Per bloccarlo lì Per non farlo votare Ma Quindi è un principio democratico Cioè questa cosa potrebbe valere Per il D.D.L. Zan Come per qualsiasi altro Disegno di legge Come tu hai nominato Le persone Tutte quelle che fanno parte Di quel partito Che la Lega Poi Sono Sono veramente Fanno rabbrividire Per quello che dicono Ma anche in mondo Vivono questi Eh sì sì È che spesso È dura Aggiungere Faccio solo così Nel mondo vivo Ma di che cosa stiamo parlando L'apertura mentale È una cosa Che a quanto pare Non è scontata No Non è scontata A me Mi fa paura i giovani Che li seguono Quello che mi fa paura Non sono tanti Non sono tanti Meno male Non sono tanti Però si è Questa cosa Come usano i social Perché Non capiscono neanche Che cosa sono i social Però se non ci hanno La foto ogni giorno Ma a parte quello Il discorso che loro fanno E quello che loro dicono La gente È totalmente sbagliato È arcaico Sì sì ma E poi Sai cos'è È discriminatorio È cattivo È arcaico E questo non può esistere più Nella nostra società La musica va avanti Perché La musica va avanti Perché non sarà così importante In Italia Però Noi siamo sempre lì Con questi governi Che si susseguono Però Alla fine Cosa ne viene fuori Facciamo una gran fatica In Italia A progredire Sotto il punto di vista Dei diritti Dei diritti Sì Perché siamo Legati a doppio filo Con Dei Dei dogmi Che Che sono molto legati a Cioè Chi contrasta In primis Questi Questi progressi È È molto legato A un dogma Religioso In uno stato Però che si definisce Laico Quindi viviamo questa Grande contraddizione E come avevo detto Nel mio discorso Però poi Chi è cattolico Cerca di contrastare I diritti Degli omosessuali Dei transessuali Dei disabili Non si accorge Che la chiesa Che Perché guarda solo L'altra parte Agli antiabortisti Non si accorgono Che la chiesa investe In un'azienda Che produce la pilota Il giorno dopo Perché ti conviene Non notarlo In qualche modo Questa cosa bisogna dire Solo tu le hai dette Finora Adesso le ho dette anche io No Le dicono in tanti E sai cos'è Il tema Ma è importante Il fatto che lo dica anche tu Cioè Infatti Non me l'hai chiesto E io volevo dire A tutti i cosi Uno pensa Una cosa che Secondo me è importante Cosa ti metti Le mani ai capelli Che non ce li hai No perché uno pensa Che personaggi Che hanno Una celebrità importante Che sono molto esposti E che non hanno nulla da perdere Fanno questa cosa In qualche modo Per un calcolo Un pensiero Quando in realtà Ad esporsi su queste tematiche Hai solo da perdere Perché degli schizzi di merda Quando ti pronunci Su determinati temi Ti arriveranno sempre C'è sempre uno schizzetto Di merda Che ti prenderà E quindi quello che ti dà Non è quello che Cioè quello che tu fai Non lo fai per ricevere qualcosa Ma il fatto che Delle persone esposte Nel senso che rischiano Con queste cose Ma il fatto che Qualcuno lo deve dire Tu sei stato il primo a dirlo Veramente chiaro e tondo Proprio Un po' quella registrazione Sei stata favolosa Ho la prova Però Cioè il fatto che Complimenti Che ci sia anche tu a dirlo Secondo me è importantissimo Io sono d'accordo con Fede Su tutto quello che hai detto Dal concerto del primo maggio E nella moda anche Come si possono lanciare Certi messaggi Nella moda È molto più libero Di testa L'ambiente della moda Della società In cui viviamo Ma prova a educare Diciamo la società In tal senso Come succede Per le taglie Eccetera Ma sì Ma qua Ancora in Italia Siamo ancora Con il colore della pelle Sono discriminati Quelli che hanno Un altro colore della pelle In Italia Ma anche i rifugiati Non lo so Quelli che E la moda Noi ci contaminiamo Con tutto il mondo Con tutte le culture Con tutti i colori di pelle Quindi Io Nel mio ambiente Non esiste questo Però Questo non vuol dire Che Nella società Eh sì C'è una cosa Che tu ricordi Nel mondo della moda Che Che è stato In qualche modo Un messaggio forte Che è passato Che è rimasto Magari un simbolo Il simbolo Il simbolo Il messaggio forte È stato che Mio fratello Gianni Si è dichiarato gay Per primo Pubblicamente È stato il primo Sì Prima Non si Tutti lo sapevano Di altra gente Ma nessuno L'ha mai detto chiaramente Io sono gay E non ho niente da scondere Su questo Viva la mia vita Come mi pare Eccetera E ha avuto delle ripercussioni Questa cosa inizialmente Certo Lui lo sapeva Sapeva cosa sarebbe successo Subito dopo Però Era talmente forte Consapevole delle ripercussioni Che ha aiutato Molti Eh Chissà quanto coraggio ha dato Effettivamente Normalizzi Cioè Anche un ragazzo Che magari ha Paura di dirlo Alla propria famiglia Vedendo una persona Come Gianni Che lo fa pubblicamente Davanti a una platea infinita È di grande ispirazione Sì si spera sempre Che non sia necessario Farlo più Cioè Che uno non debba Specificarlo Dopo questi metà anni Sono passati Ancora stiamo qui A parlare degli esi Sì come effettivamente È veramente una cosa assurda Come se io dovessi dire Pubblicamente Sono etero Capito Ma sei etero? Sì sì Ok Se Valerio dice no Ho detto no Perché Sì 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 Ma effettivamente Cioè capite Quello è strano Che uno debba Farlo sapere O comunque debba Giustificare Però il fatto che Ripeto Era necessario No non era necessario Il tema è proprio quello Che non era necessario Che Gianni lo facesse No ok Allora tutto da perdere Niente da guadagnare Facendolo Facendolo In qualche modo Ha ispirato Ha aiutato persone Che neanche conosceva È come Quando abbiamo avuto qua Bebe E parlavamo di quanto Può ispirare Il percorso Che fa Bebe Non solo le persone disabili Ma anche Altre persone E che all'inizio È come se Bisognasse Buttare giù Le fondamenta O di una strada Comunque Perché gli altri Possano iniziare A percorrere Più facilmente Ma chi l'ha detto Che l'orientamento sessuale Deve essere uno Non lo so Infatti Ok Breaking the wall Rompere i tabù In questo modo Assolutamente Ci devi andare Con tutta la forza Che hai Perché se ci fai Piano piano Non ci riesci Devi credere In quello che dici È giusto Va bene Parlami di te Ma cosa devo dire Io No dai Fammi vedere Se ho altre domandine carine Com'è bella Chiara Vabbè È bella È bella E basta Che fortunato Adesso si muove È una donna così Al tuo fianco È molto importante Ha voglia È vero Chissà la bimba Come sarà No Spero che non somigli a me No Perché non mi somiglierà a te Eh spero Però Bella Perché è bella Eh beh perché Non ho proprio dei tratti Ma io visto Quello che ho fatto Sorride Già Nemmeno un mese Sì 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 Ride come una pazza Ride come una pazza Te la leggo così come scritta Lei Ti do del lei Lei è una delle persone Che al mondo Può vantare amicizie femminili Pazzesche Da Lady Gaga A Gigi Hadid Fra tutti i suoi amici iconici Chi è Il La Più Spericolato Spericolata Lady Gaga Lady Gaga Perché Perché lei rompe le barriere Vuole solo fare solo quello Rompere le barriere Esprimersi in maniera diversa Non solo nella musica Ma anche Poi lei Fa dei discorsi Intelligentissimi E' molto Improfona Io parlo di rama Sentite E' molto molto impugnata sul sociale Fa un sacco di beneficenza Lotta per i diritti Lei lotta per i diritti Ed è anche un po' italiana Gaga Germanotta Ma scherziamo Io sono stata Suo padre era in un piccolo ristorante A New York Italiano naturalmente Cucina italiana E penso che cosa ha fatto per me Era un giorno del mio compleanno Anni fa Mi ha invitata a cena Eravamo in pochissimi Poi lei è sparita Tornata lì con il microfono E mi ha cantato Un altro concerto Vedi Donatella Versace Una vita di concerti privati Pazzeschi Sì ma il ristorante è piccolo così Ci eravamo venti Chissà quanti concerti hai assistito No ma lei Con tutti quelli dietro Tutti i jazzisti E tutto C'era solo lei Con il microfono Ah quella band Certo Bellissimo Mi dicono Prince a Minneapolis Cosa ho fatto Ma alla fine Non mi credo Lo devo dire Allora Prince mi chiama Per lui ci diceva tre parole E tu dovevi capire tutto Perché per la quarta Non te la diceva Ok Andrà pochissimo Ci vediamo a Minneapolis Il 27 di sera Perché Poi te lo dico Ma perché No no c'è un disco sai La casa discografica E io Andiamo Prendiamo a lei Andiamo da Prince Che mi metto Un abito per lungo Ricamato Io mi aspettavo C'è una cosa pazzesca Arrivo lì A Paisley Park Già volevo andare a Paisley Park Comunque sarei andata In tutti i casi Perché Arrivò lì C'era Prince Dietro lui c'era Lenny Kravitz E io E mi fa Vieni Lui dice poche parole Vieni E mi fa Attraverso un tune Tutto viola Con tutte Tutte le sue Le sue chitarre Appese Tutti i primi che ha preso Cioè Sono entrata Nel mondo Sono entrata Nel mondo Prince Nel mondo Prince Tutto viola Naturalmente che non finiva più Sto zona Io non vedo più lui E mi dicevo Lenny Ma dove è andato? Ma non lo so Poi è arrivato pure Pafdadi E lui mi ha detto Sedetevi lì un attimo E siamo entrati in questo teatro Enorme E dove è la casa sua? Sì Paisley Park Paisley Park Si chiama Paisley Park Non so come si chiama Paisley Park Lui ha sempre vissuto a Minneapolis E Paisley Park Il posto dove ha sempre registrato Le sue canzoni Aveva pure la sartoria Per i suoi vestiti Era una piccola città Una madonna Una cosa incredibile Pazzesco Si accendono le luci Era Era un palcoscenico Tutto dipinto di viola Col suo segno Lui si chiamava A un certo punto Aveva solo il segno Senza il nome Sì Prince comincia a cantare Con la sua chitarra Con tutti i ballerini Con tutta la band Ci ha fatto un concerto Per noi tre Un concerto completo Cioè Io mi sentito la persona Più fortunata del mondo E Puff Daddy cosa faceva? Era amico su Ah stava lì a guardare? Pensavo che entrasse A un certo punto A fare Puff Daddy Hai detto che era timido Deve essere difficile Effettivamente performare Per poche persone Difficilissimo Solo per noi tre Madonna Però amici Cioè Sì Ma mettere in pieno Un concerto La produzione La produzione Per noi tre Bellissimo Non dimenticherò mai Ma Prince faceva queste cose Lui stava sempre Era molto molto attivo Stava un po' dietro Però quando faceva una cosa La faceva in maniera grandiosa Pazzesco Poi Ti ripeto Quando c'è Black Lives Matter Sono avevano cominciato Già a fare Prince Anche battaglie Invece tu devi venire sul pacco Ma io devo fare Io sono bionda Cosa ti parlo di Black Lives Matter No Tu per questo devi venire E parlare con me Certo Allora di quelle idee Veramente Pazzesche Beh Proseguiamo Personaggio E ci ho la lista Questo era più Pericolato Questo era tutto vero Ora ve l'invento Però Il più colto Elton John Elton John Molto colto Molto E un senso Dello humor Incredibile Con la battuta pronta Lui sale Che difficile Lui sale Ah scusa Sì 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 Con la battuta pronta Io La persona Ah beh Giusto La persona Su cui puoi sempre contare Sono tante Non sono nessuna Cioè io Qualsiasi cosa chiedo Ora non perché è famosa Dico Vole famosa Lady Gaga Si mette subito Adesso fa Sono dieci anni Di Born This Way Ha chiamato me Per fare questa commemorazione Nel senso Dieci anni Di questo disco Ho fatto una maglietta Per lei Le mettiamo Capisci Questa è amicizia vera Comunque Perché Non ci sono i soldi Nel mezzo Io la faccio Poi va tutto in beneficenza La amicizia che vuole lei E c'è Ten years Born This Way Che bello Sì 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 Quindi io posso contare Le persone Perché io Tanto ma loro Danno anche tanto a me Beh certo Reciproco I Blink 182 Non vorrei uscire da qui Hai mai vestito I Blink 182 Sì una volta Che piacevano a mio figlio Davvero Pacevano a morire A mio figlio Ma tua testa così Per me è come se mi dicessi Prince Hai vestiti una volta Bravissimi Bravissimi Per cosa ne hai vestiti Per un tour Che hanno fatto Un piccolo tour Davvero un grande tour Privato per te Era per tutti Ma io sono andata a due A due concerti Perché mio figlio Continuava a dire Salutiamoli Ciao amici Ciao Bello Molto bello Davvero Ti prego scrivi E' un altro che ha performato Che purtroppo è morto Kif I Prodigis Ah I Prodigis I Prodigis Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì tutti i rifiuti buttati lì bellissimo e poi nel mezzo della passarella questa cosa sembrava un fuoco incendiava le cose è cominciata la sfilata con l'incendio andiamo male sportivi? non te ne frega niente Lukaku è vero prima della pandemia io sono interista ti piace il basket? un po' meno non lo conosco bene il basket segui il calcio proprio si lo conosco l'hai vestito? l'hai vestito? ecco il rodman è stato un'icona un'icona pazzesca però no no ha fatto lui nelle cose per il suo e quando facevano gli LP quindi segui proprio il calcio tipo fan? seguo l'inter il calcio ok l'inter è una cosa di famiglia mio padre è interista mio fratello è interisti mio figlio è interista cioè non ne posso uscire sono tutti interisti quindi di recente avete avuto una bella eh sì finalmente perché non abbiamo un Met Gala in Italia? perché la cultura qui non è molto seguita è molto bella il Met Gala tutti pensano che sia una cosa della moda ma non lo è ah no? no noi andiamo noi della moda abbiamo un accordo con il Met Gala a fare queste serate dove compriamo dei tavoli ma lo facciamo perché il museo possa continuare ad esistere perché nessuno dà più soldi a questi musei non è tanto per la moda sì io pensavo che era una roba figa è finissima come sapevo io io pensavo che era un posto dove tutti i signori della moda avevano dei tavoli e se sei figo ti invitano infatti perché se sei figo ti invito al mio tavolo se sei figo ti invitano comunque è moda è musica ancora una volta sono moda in musica perché noi invitiamo io al mio tavolo mi invito solo Evoluti Migos Drake Drake no? Drake no non l'ho invitato mi inviti a me prima di Drake me lo prometti? ok capito Drake quindi non lo facciamo perché Anna Wintour direttamente quindi per sostenere ah perché c'è la Anna Wintour è lei che organizza tutto Anna Wintour che organizza tutto però se non ci sono queste serate così non è che hanno tanti contributi per mantenere una cosa del genere per supportare quindi il museo il museo è la cultura ma ma cazzo potremmo farlo in Italia per supportare il museo ma perché non lo facciamo? ragazzi qualcuno si attivi a Muschio Selvaggio potrebbe nascere il Met Gala italiano troviamo un museo ci sarà e beh a Madonna abbiamo una quantità di musei ma dico gli uffizi un uffizi gala è bellissimo gli uffizi replicare è stupendo ma perché si chiama Met Gala perché il museo si chiama Met e allora facciamo uffizi gala uffizi gala uffizi gala tutti i designer hanno un tavolo siccome l'abbiamo ideato qui io e Luis abbiamo un tavolino più piccolo no poi c'è il mio tavolo perché io prendo non comprimo il tavolo poi io mi ospite a riempirlo questo tavolo con lo alto nero sto così no tu no ti devi un po' neutro sto io sto neutro mi metti mi vesti tu se mi vesti tu ti mando qualcuno non io personalmente ok sì no ma tu mi dai i vestiti e li metto addosso sarebbe bello questo per la cultura sarebbe figo dobbiamo farlo qualche museo si faccia avanti che poi vedi il Met Gala è il museo forse più importante del mondo perché è una cosa incredibile però si chiede alla moda e alla musica di farlo di farlo cioè di non farlo diventare la dice lunga è una potenza alla moda e alla musica non lo chiede altri non lo chiedono negli scrittori negli sceneggiatori né quelli degli Oscar non chiede alla moda e alla musica perché l'attenzione è tutta lì è tutta lì sì musica e vestiti oh Carcobain no ricordare anche quello perché guarda io ero molto amica di Courtney Love la quale anche lei è stata mia ospita le sfilate ha fatto la campagna Versace l'ho conosciuta attraverso lei due volte un personaggio cioè ti faceva male al cuore sentirelo parlare perché uno parlava solo di sofferenza solo di sofferenza parlava di dipendenza parlava delle sue dipendenze di sofferenza di voler non uscire pensava con la bambina che aveva avuto che questo fosse diventato tutto più facile per lui nella vita invece non lo è stato è finita come è finita però sono stati grandi perché hanno cambiato il mondo col grange non volevo mettere una nota di tristezza cioè volevo finire all'interno stavamo ridendo ma la vita Mike buongiorno l'hai mai vestito? stai tirando fuori io l'avrei vestito Mike buongiorno io non l'ho mai conosciuto no carco bene Mike buongiorno era per finire con una nota di colore di allegria tu me lo metti prima se no finiamo con sta nota ringraziamo Donatella Versace per essere stata con noi questa era la puntata di Busche Selvaggio ci vediamo alla prossima amici grazie a voi per avermi invitato grazie mille grazie a te ciao grazie grazie